la stagione di uomini e donne si è appena conclusa ma tanti sono i rumors su chi ci sarà a settembre seduto nel parterre più discusso di canale 5 uno dei volti più noti infatti è stato anche lui lo ricordiamo riccardo guarnieri che proprio ieri si è mostrato sul suo profilo instagram con la sua nuova fiamma intanto infatti a settembre speravano che riccardo potesse ritornare uomini e donne ma proprio ieri abbiamo visto una storia su instagram che ha lasciato intendere che proprio lui non farà ritorno nel programma di maria di felipi e si riccardo guarnieri ha postato una foto con la sua nuova e misteriosa fiamma la frequentazione con questa affascinante mora va avanti già da qualche mese e sembra che la loro relazione vada proprio a gonfie vele si sperava invece che ci fosse un ritorno di fiamma con la sua ex ida platano rimarrà deluso perché riccardo si mostra così felicemente felice con la sua nuova fidanzata grazie a tutti